Poi sorridendo disse, io sono Manfredi, nepote di Costanza Imperadrige, un Dio ti priego che quando tu riedi vadi a mia bella figlia, genitrice dell'onor di Sicilia e d'Aragona, e dici il vero a lei, s'altro si dice. Posso che io ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei piangendo a quei che volentieri perdona. Orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei.